Recita la potente novena per la presentazione della Beata Vergine Maria La festa della presentazione della Beata Vergine Maria è una celebrazione cristiana che commemora l'evento secondo il quale Maria, all'età di tre anni, fu presentata al Tempio di Gerusalemme dei suoi genitori, Sant'Anna e San Gioacchino. Questa festa è osservata il 21 novembre in diversi riti cristiani, compresi il cattolicesimo, l'ortodossia e alcune tradizioni protestanti. La storia narra che Maria fu portata al Tempio per essere consacrata a Dio. La festa sottolinea l'importanza di presentare se stessi a Dio con cuore puro e spirito devoto. Recitate questa novena dal 12 al 20 novembre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Per quella mirabile prontezza con cui vi dedicaste nei vostri primi anni al Signore, impetrate a noi tutti, o Gran Vergine e cara Madre Maria, che cominciamo almeno adesso a consacrarci di cuore al Divino Servizio senza intiepidirci giammai. Amen. Per quel serafico fervore con cui serviste nei primi vostri anni nel Tempio di Gerusalemme, per cui riusciste oggetto d'ammirazione agli stessi sacerdoti, ottenete a noi tutti, o Gran Vergine e cara Madre Maria, sacramenti, e ci tratteniamo nella casa del Signore. Amen. Per quel singolare eroismo con cui fino dai primi anni, vinceste l'attacco alla casa di parenti, esprezzaste tutti gli allettamenti del mondo e della carne per dedicarvi irrevocabilmente al servizio di Dio, ottenete a noi tutti, o Gran Vergine e cara Madre Maria, che non restiamo mai sedotti dagli inganni dei nostri nemici, e vivendo col cuore staccato da tutte le cose della terra, non aspiriamo che ai beni sodi e perfetti della grazia, per godere un giorno con voi i gaudi eterni e compiti nel regno della gloria. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.